Anche nei nostri notiziari, la Corte di Cassazione, la notizia di ieri, ha confermato le condanne per l'omicidio di Marco Vannini, avvenuto dal 2015 e ne vogliamo parlare, siamo pronti per collegarci con lui, con Carmelo Abate, giornalista, autore del format Le storie degli altri, di grande successo sui social e sul web. Abate, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Grazie Abate. Prima di entrare un po' nel dettaglio e fare alcune domande, proviamo a riassumere brevemente la storia perché certamente non tutti la ricordano, la ricordano in modo dettagliato. Il nostro Massimo Lonigro ha preparato una breve sintesi. Sì, siamo nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, viene esploso un colpo di pistola contro Marco Vannini, è un giovane ragazzo ventenne a casa fondamentalmente dei suoceri perché è casa della sua ragazza, si trova nella vasca da bagno e da lì, diciamo, questa è l'unica certezza perché poi inizia una serie di ricostruzioni un po' complesse effettivamente da ricostruire appunto. Allora, la prima telefonata al 118 parte dopo 40 minuti dallo sparo, chiama il figlio di Antonio Ciontoli e dice no ma in realtà ha avuto un mancamento, poi interviene la madre, mette giù e va via così. Poi arriva un'altra telefonata questa volta dal padre che dice no ma in realtà si è ferito con la punta di un pettine, insomma, chiaramente però l'operatrice sentiva in sottofondo i lamenti del povero Vannini, alla fine insomma arriva l'ambulanza, lì lì soccorso, non fanno in tempo a salvarlo e da lì inizia poi chiaramente tutto il processo che ha avuto tre gradi di giudizio anche un po' controversi. Il primo grado, 14 anni per il padre e tre anni per i figli e la moglie di Ciontoli e in appello la pena ridotta a 5 anni, adesso è arrivata la condanna in Cassazione a 14 anni per Antonio Ciontoli, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli. Questi sono i fatti, Carmelo Abate, grazie per essere con noi. In mezzo tra i fatti e insomma la decisione della Corte di Cassazione di ieri ci sono 6 anni difficili. Sì, c'è un lungo percorso giudiziario contraddistinto da menzogne, bugie, reticenze che purtroppo hanno impedito un totale accertamento di come sono andate le cose quella sera. Però oggi c'è una verità giudiziaria, è una verità giudiziaria che era scritta chiara negli atti, bastava soltanto leggere gli atti dall'inizio, come dicevo io, che c'erano le prove di tutto quello che poi oggi ha deciso la Cassazione. C'erano le prove delle menzogne, c'erano le prove della mancanza di volontà di salvare quel ragazzo e tutto questo oggi è stato riconosciuto dalla Cassazione. Beh, quindi quando la famiglia, diciamo, del Vannini si dice soddisfatta, forse vuole dire questo, cioè una verità che doveva essere accertata nel giro di poco, è arrivata in ritardo ma è arrivata. Insomma, forse possiamo parlare un po' in modo più ampio di giustizia in questo paese che poi alla fine forse a volte porta alla verità? Giustizia grazie alla capacità, alla straordinaria capacità di quella donna e del marito, il marito un uomo incomiabile, capace di supportarla stando spesso un passo indietro, alla straordinaria capacità di portare dalla sua parte i media, perché diversamente se lei non avesse avuto questa grande capacità, questa storia sarebbe passata un po' sotto traccia, si sarebbe liquidata un po' come quelle storie di provincia che spesso purtroppo passano in sordina e probabilmente oggi non saremmo qua. Ricordate le bugie da subito di Antonio Ciontoli che racconta addirittura, va bene, quello che diceva prima Lonigro, dello scherzo, del pettine a punta, ma poi quando arriva in ospedale dice al medico se può non scrivere che c'è stato un colpo di pistola. La notte viene chiamata la mamma e gli viene detto che il figlio è caduto dalle scale. C'è sempre come dire, mentre Marco per quasi due ore urlava disperato, urla disumane che sentono anche ai vicini, tutta la famiglia aveva coscienza di quello che stava succedendo, tutta la famiglia ha scelto in quel momento di non mettere la vita di quel ragazzo al primo posto, ma al primo posto hanno messo il lavoro del capofamiglia. Abbatte, tu hai seguito questo caso da vicino, l'hai seguito molto bene, così come sei abituato a fare anche con altri casi. Se dovessi individuare in questo arco temporale lunghissimo, in questi sei anni, un vero punto di svolta? Io direi probabilmente quando quella famosa sentenza di secondo grado che citava prima il collega, quando la pena venne abbassata, quando il giudice ebbe quell'uscita infelice di faccio fare una passeggiata a Perugia. Ricordiamo che venne abbassata la pena in un modo che cozzava con un sentimento di umana giustizia dell'italiano medio, di me e di te, di tutti noi. E di fronte a una mamma che le restava l'unica arma, che era quella delle urla, della disperazione, perché è assolutamente comprensibile veramente la mancanza di umanità del giudice, che addirittura si rivolge vi faccio fare una passeggiata a Perugia quando si stava consumando una grandissima ingiustizia ai danni di questa famiglia. In quel momento secondo me è scattato, in tutta la cittadinanza, in tutti gli italiani, è scattato quel qualcosa per cui è diventato la storia di tutti e non la storia di questa famiglia. Gli imputati, i loro avvocati si sono lamentati negli ultimi tempi che è stata una sorta di processo mediatico. Io non sono assolutamente d'accordo. Se non ci fossero stati i media si sarebbe consumata una ingiustizia immane nei confronti di una famiglia, di persone normali, comuni, di una famiglia per bene, di una famiglia di cui questo paese è ricca ancora, per fortuna. Carmelo Abate, grazie. Grazie anche per le parole con cui hai espresso il punto di vista, la situazione e la verità di questa storia durata veramente fin troppi anni. Grazie davvero, ci sentiamo molto presto. Grazie a voi, buona giornata.